ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro ara e benvenuti in questa nuova recensione finalmente è arrivato il momento di vedere questo ispettore gadget della blitzway e ragazzi ce ne saranno veramente delle belle da vedere preparate i pop corn per questa recensione devo ringraziare tantissimo il mitico luciano che non solo ha acquistato questa figure da me ma mi ha permesso appunto di recensirla non è cosa da tutti quindi grazie veramente di cuore come sempre vi ricordo che se volesse acquistare questa figure purtroppo non questa in particolare quella singola è rimasto solo e soltanto il set con tutti gli altri personaggi quindi prima che vada esaurito anche quello se lo volete acquistare lo trovate sul mio sito ara shop che trovate qui sotto nel link in descrizione ma direi di non perdere altro tempo vediamo la confezione parte frontale parte superiore questa qui è la parte laterale questa qui è l'altro lato questa è la parte posteriore con lo spoiler di tutto quello che è contenuto all'interno della confezione ma direi di non perdere altro tempo andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa oh ed eccolo qua ragazzi con tutti i suoi accessori come vedete sono una marea ho fatto fatica ad inserirli nell'inquadratura perché veramente guardate sono un'infinità comunque non perdiamo altro tempo andiamo subito a vederli e cominciamo da questa che è la basetta veramente figa con questi mattoni vedete poi con i bordi del marciapiede poi con l'asta posabile addirittura con due inclinazioni di solito è solo una questa volta ne ha tre poi abbiamo il peg qui sulla parte finale poi abbiamo questi altri pezzettini qui vedete che si incastrano in questi fori qui per poter posare l'ispettore per inserire diciamo questi peg sotto i suoi piedi per non farlo diciamo cadere dalla basetta per il resto andiamo a vedere un po sono indeciso anche io abbiamo tutti questi pezzi qui ragazzi che sono le parti allungabili dell'ispettore abbiamo queste qui più lunghe queste altre due qui eccole qua un po più corte e poi queste altre due qui invece di lunghezza media ma la particolarità di queste parti che tra l'altro sono veramente fighissime tutte fatte in questo argento metallizzato è che hanno il filo metallico all'interno quindi sono tutte posabili poi poi ancora abbiamo queste ragazzi che si inseriscono sempre sui piedi che sono i trampoli a molla dell'ispettore gadget che come vedete hanno delle vere molle quindi volendo si potrebbe far saltare realmente l'ispettore chiaramente questo non è consigliabile però fighissimo che lo facciano davvero poi ancora abbiamo questo che è uno dei gadget più figli ovvero l'elicottero che si inserisce sul cappello come vedete il cappello ha questo pezzettino sopra che è intercambiabile con questi qui con questi qui abbiamo questo qui che è appunto quello per inserire l'elicottero vedete si inserisce in questo modo qui e poi si attacca sul cappello e poi lateralmente si attaccano queste due aste vedete in questo modo qui è la particolarità che sono fatte davvero in metallo il che è veramente una figata continuando ancora questo era l'altro pezzo di cappello intercambiabile che va insieme a quest'altro accessorio che sono queste aste che si inseriscono in questo modo qui appunto all'interno tra l'altro sono tutte articolate bellissime si inseriscono così e qui si mettono le mani intercambiabili per far uscire le mani anche dal cappello proprio come faceva nella serie animata qui si mettono le mani figata incredibile a proposito di mani andiamo a vedere di quali è dotato allora abbiamo queste due qui per impugnare varie cose tra cui appunto le aste dell'elicottero che abbiamo visto prima abbiamo questa qui immancabile con il telefono bellissima ragazzi con il microfono qui abbiamo l'altoparlante e qui abbiamo l'antennina in plastica morbidissima quindi non si rompe abbiamo la mano a cacciavite eccola qui anche questa veramente figlissima morbidissime tra l'altro le mani e poi abbiamo questa qui invece con il dito indice puntato alzato in questo modo spettacolo poi ancora abbiamo la lente di ingrandimento che è una vera lente di ingrandimento vi faccio vedere un attimo vedete ingrandisce seriamente tutto quello che inquadra bomba abbiamo i pattini questi qui che si mettono sotto i piedi e tra l'altro hanno le rotelle realmente mobili bellissimi anche questi ragazzi abbiamo una torcia eccola qui non si sono fatti mancare nulla abbiamo il distintivo dell'ispettore fantastico anche questo e poi abbiamo finalmente un viso intercambiabile questo qui sorridente a cui tra l'altro si possono intercambiare gli occhi vedete abbiamo gli occhi che guardano verso un lato gli occhi guardano verso l'altro lato questa cosa si può fare anche con il viso base di cui è dotato e poi abbiamo anche questo fantastico ombrello rosso con l'asta anche questa in metallo pazzesco ragazzi bomba incredibile e ora vediamo la figura in sé che è veramente pazzesca anche questa questa è la parte del cappello che si rimuove ragazzi molto molto semplice si rimuovono anche i piedi per inserire tutti gli accessori che avete visto e chiaramente si può fare lo stesso con le mani bellissimo tra l'altro realizzazione impeccabile non mi aspettavo le sfumature sull'impermeabile spettacolo davvero ragazzi rende il tutto molto molto più di livello diciamo comunque la testa realizzata veramente benissimo ragazzi i classici capelli diciamo sparati all'indietro bomba tutti i dettagli sono dipinti alla perfezione questa parte dell'impermeabile è in plastica morbida per non limitare le articolazioni qui vediamo le scarpette dell'ispettore con i calzini bianchi e qui ci sono i fori sotto i piedi per inserire appunto i pattini veramente qualcosa di eccezionale ora vediamo le articolazioni abbiamo la testa può guardare benissimo verso l'alto può guardare anche molto bene verso il basso può muoversi lateralmente in questo modo può ruotare lateralmente in questo modo il braccio può aprirsi a 90 gradi vedete le articolazioni sono molto solide hanno gli scatti abbiamo la butterfly joint che permette un leggero movimento in avanti indietro nonché in su e in giù rotazione al gomito piegamento al gomito rotazione al polso piegamento al polso qui a mezzo busto abbiamo questa articolazione più che altro alla vita di piegamento in avanti e indietro niente male piegamento laterale rotazione in questo modo le gambe possono andare in avanti all'indietro sono leggermente limitate comunque dall'impermeabile nonostante sia morbido però il movimento lo fanno c'è l'apertura laterale in questo modo qui rotazione alla parte superiore piegamento qui al ginocchio piegamento del piede in su piegamento del piede in giù in questo modo qui qui è un po limitato diciamo il raggio devo dire abbiamo rotazione in questo modo leggera rotazione laterale della caviglia in questo modo e per le articolazioni abbiamo finito qui e adesso ragazzi andiamo a misurare l'altezza della nostra figura siamo sui 17 centimetri spaccati ovvero 6 pollici e 75 eccola qui a confronto con il Goku Super Saiyan Blue e Sage Figures e con il mitico Monnetza Spider-Man Marvel Select e ragazzi eccolo qui sulla basetta rotante e che meraviglia ho montato alcuni dei millemila accessori per farvi vedere un attimo anche come sta con l'elicottero le molle insomma però veramente c'è l'imbarazzo della scelta per come posare questa figura e passiamo subito a dare i voti accessori ragazzi come faccio a non dare il 10 si potrebbe dare anche l'11 veramente avrà sicuramente un bonus in più perché sono veramente una marea sono tutti bellissimi per quanto riguarda le articolazioni comunque sono buone non eccezionali incredibili ma i movimenti li fa soprattutto alla testa mi ha sorpreso molto qui devo dare un buon 8 secondo me se lo merita per quanto riguarda invece l'estetica ragazzi è praticamente perfetto in ogni dettaglio secondo me non potevano fare meglio di così veramente eccezionale ci hanno messo pure le sfumature io qui anche do un bel 10 e ragazzi il voto finale per questa figure dato dalla media dei tre voti precedenti che in realtà non è così è un 10 pieno stop questo ispettore gadget è da 10 pieno assolutamente è pazzesco ha tutto quello che deve avere alla basetta tutti gli accessori è fatto benissimo è veramente eccezionale complimenti veramente la blitzway ha fatto un lavoro davvero incredibile su questa figura io sono contentissimo perché era un personaggio iconico della mia infanzia meritava un trattamento del genere ora fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo ispettore gadget con un commento qui sotto vi ricordo che al momento non si trova più lui singolo ma si può acquistare il set con tutti gli altri personaggi anche prima che sparisca anche quello quindi se lo volete ragazzi precipitatevi e fatelo tramite il mio sito trovate il link qui sotto in descrizione a rush shop io vi ringrazio come sempre per la visione noi ci vediamo alla prossima ciao dara dall'ispettore gadget e collezionate sempre grazie per la visione